Ciao a tutti. In questo video vorrei leggervi alcune mie poesie che parlano di ciò che noi non vediamo. Questa mia poesia l'ho intitolata Tesori nascosti. Molte cose belle sono sparse qua e là, nascoste fra muri, sassi, erbacce e relitti. Veri tesori preziosi, come il nostro corpo nasconde nel profondo il nostro spirito che anima il mondo. Quest'altra poesia l'ho intitolata Tesori di tutti. Mi ingozzo il mio ubriaco di tesori abbandonati, come tanti si ingozzano di sogni deprezzati. Ma i miei tesori sono anche vostri, sono di tutti. È bene aprire gli occhi per ascoltare il sibilo e il celso dell'infinito sibilante, note creative che tutti i viventi vuole modellare, che dentro ognuno vive, vive. Quest'altra mia poesia l'ho intitolata Illusioni. 300.000 km al secondo. Ma chi ha inventato il secondo? Da dove vengono le ore, i minuti, i secondi? Sono invenzioni umane. Allora il tempo è una illusione umana. Lo spazio forse lo stesso. Siamo sempre qui, ora, adesso. Chissà. Quest'altra mia poesia l'ho intitolata Sfondi di eternità. L'eternità è al di là del tempo, della vita mortale che è qua. L'eternità è la vita soggiacente, come lo sfondo innocente, sottostante un dipinto. Come l'osservatore dietro le nostre pupille, la terra vergine sotto la foresta, la verità fra le stelle, il magma sotto la crosta, l'incerto sotto il certo, la consapevolezza, sfondo e regina di ogni morale. di ogni morale. Attenzione, non molare, di ogni morale. Quest'altra mia poesia l'ho intitolata L'eternità. L'eternità è la castità di un tuo bacio che sfiorà le mie labbra. quest'altra mia poesia l'ho intitolata Materia, Energia Oscura. Mi sono sempre chiesto di cosa è fatto quel vuoto pesto che c'è nell'universo. Materia, Energia Oscura. Insomma, sono... Praticamente noi, come dice la scienza, siamo sordi e ciechi. Non vediamo praticamente nulla di tutto ciò che esiste. Vediamo lo 0,005% di tutto ciò che esiste. Tutti sappiamo che i cani, per esempio, sentono molto più di noi, per non parlare dei delfini, che sentono gli ultrasuoni. Il falco vede molto di più di noi, ha una vista davvero eccellente. Però ci sono cose, esistono cose, che neanche gli animali vedono e sentono. Esiste un mondo che neanche gli animali vedono e sentono. Un mondo che è al di là dello spazio e del tempo, della dimensione e spazio-temporale nella quale viviamo. È il mondo dell'inconscio, il mondo il mondo dell'eternità, della vita eterna, del regno di Dio. infatti in questa poesia io dico l'eternità è al di là del tempo della vita mortale che è qua. L'eternità è la vita soggiacente come lo sfondo innocente sottostante un dipinto. Sotto alla nostra dimensione spazio-temporale c'è l'eternità soggiacce l'eternità solo che noi non non la vediamo. Possiamo possiamo solo percepirla in meditazione a occhi chiusi in meditazione nell'adesso nell'adesso nel qui adesso perfetto come ho detto nell'altro mio video intitolato Poesie Quantistiche solo essendo qui adesso possiamo avere a occhi chiusi in meditazione escludendo quindi la mente la mente che ci porta sempre ovunque ci fa pensare ci porta nel futuro nel passato ci porta in altri posti ci fa vagare sempre dobbiamo come si va con la televisione spegnere la mente e rimanere qui in meditazione adesso solo così possiamo percepire l'eternità l'eternità del qui e ora perché la spiritualità orientale dice che l'eternità è il qui e ora e probabilmente Gesù con la definizione regno di Dio intendeva proprio proprio questo il qui e ora il non essere non essere sempre con la mente altruve non essere sempre in ansia pensando sempre al futuro oppure oppure non essere sempre in sofferenza pensando sempre al passato e quindi tutto ciò che ci circonda e anche lo spazio e il tempo sono probabilmente illusioni create dal nostro cervello che il nostro cervello che che ci fa stare qui che crea questa dimensione questa nostra dimensione spazio-temporale che che poi che comunque ha una fine non è eterna e che finisce quando noi quando il cervello si spegne noi moriamo ma ma dentro di noi il nostro spirito rimane perché il nostro spirito lo spirito che ci anima fa parte del mondo del mondo dell'inconscio fa parte dell'eternità e parte di Dio e da sempre non conosce né spazio né tempo e da sempre quindi spero 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 vi siano piaciute queste mie poesie credo siano siano cose belle queste cose cose che valgono per tutti che che ci possono ben unire nessuno può dire che queste cose non esistono perché la scienza la scienza le sta confermando la fisica della meccanica quantistica piano piano sta scoprendo tutte queste cose quindi io vi ringrazio e vi do appuntamento alla prossima puntata a presto ciao